Allora, qua veramente mi stavano impedendo di continuare con i saluti se non si fosse quarantena davvero, vogliono il monopolio delle cose, ma come si permettono? Cioè la che una gesuina non si lascia mettere in piedi di testa da nessuno, non scherziamo Oh, che ciò che è di giù? La che adesso i saluti li faccio io, volenti e non volenti, oggi tocca a me E oggi voglio salutare Gisella, oh Gisella, ciao sua sposa, buono Gisella Ti mando un mondo, ma un mondo di pace e di abbraccio a te e a tutta la tua famiglia E giochetti su, li mando anche a voi, oh pensiate che mi rimentico di voi, come chiederebbe se non riesco di me Ma è andato mai, è che la memoria ce l'ha ancora bella? Ciao, biciocchetti, sono da Gutturubici, guardate che male, quello che piace a me, ora vado a fare surf Ciao